E qui la Madonnina di Saracena. Bravo! Benvenuti a Saracena. E qui sta Saracena. Allora, su, è la chiesa del San Leone. Saracena è ben maiore di quello che io pensavo. Pepperoncini. Buongiorno. Buongiorno, il peperoncini. E qui c'è una prassina in Saracena che mostra un pochino di calcio. E qui c'è qui. Tutto il mondo parla in qualche lugar. Tutto il mondo attraversa, parla. E qui c'è un pochino di casa. E qui c'è una chiesa del San Leone. E qui c'è un pochino di calcio. E qui c'è un pochino di Saracena. E qui c'è un pochino di calcio. Il padron di Saracena. E stato di? San Leone. San Leone. Ah, questo è il nome del mio bisnonno. E questo, è tutto da questo sabato che vengono. Il primo anno di Leone. E qui c'è chiesa. Questa è la chiesa madre. La chiesa madre, la nave centrale della chiesa. Poi c'è giù, è più piccolo, ma è bellina. C'è un'altra. Adesso io vorgo. Qui da San Leone. In Saracena. Prego, potete spiegare signora, come faccio per firmare il campanile? No, se è ben fatto, poi con il colino, per la parte, per la parte, per la parte. Ah, sì. Allora di qua, signora? Se vede bene il campanile, eh? Vamos continuar qui. Saracena, direzione al centro histórico. Qui c'è una via lì. O la quella, là, perto da igreja. Qui c'è una via lì. Qui c'è una via lì. E'vamos subì agora. E'viste preparando per começar a subì. E'vora è violento. Qui c'è una via lì. Grazie a tutti.